partiti pinna cade ma tutto a posto si rialza ma il favorito ha fatto uguale a Pure Gentleman ha preso il passaggio Budweiser in vantaggio quindi su Key of Desire che all'esterno Be Cool, Guri Maximus e Harry Karnik il favorito che si è tolto di mezzo pinna tornai con le sue gambe in sala Fanti Budweiser Be Cool al suo esterno Key of Desire in corda Guri Maximus con vicino Harry Karnik non cambiano le posizioni del quintetto con Budweiser Key of Desire all'esterno Be Cool che si trascina Harry Karnik in coda Guri Maximus allunga Budweiser quando siamo a 600 dal palo su Key of Desire che all'esterno Be Cool Harry Karnik in coda in corda cerca il barco Guri Maximus con Budweiser in allungo da Key of Desire e Be Cool poi Harry Karnik e Guri Maximus sta scappando Budweiser da Key of Desire che all'esterno Be Cool che ha un po' esaurito di argomenti migliori all'interno di Guri Maximus all'argo Harry Karnik Budweiser è in vantaggio su Key of Desire nel finale Budweiser contro Key of Desire nel finale Budweiser Key of Desire Harry Karnik 165 è l'ordine d'arrivo ufficioso Budweiser Key of Desire Harry Karnik dalla postazione centrale è tutto